L'11 dicembre Spezia ospita un momento di riflessione importante sulla Blue Economy. Quando parliamo di Blue Economy di che cosa parliamo? Allora noi presentiamo martedì una ricerca che abbiamo fatto insieme con il Comune della Spezia e con Confindustria Spezia e che va a esplorare e a quantificare proprio la Blue Economy. Blue Economy è l'insieme delle attività che si svolgono in conseguenza del capofiliera che è il mare. Quindi andiamo dall'iticoltura e dalle coltivazioni in mare alla cantieristica, alla malmeccanica, ai servizi turistici, alloggi, ristorazione eccetera che sono legati al mare e alla portualità naturalmente e all'insieme delle attività in qualche modo collegate al mare che dal mare traggono l'impulso per creare valore. Noi in particolare ci soffermeremo sulla cantieristica. Si aprirà un confronto, forse proseguirà, un confronto con altre economie sul Mediterraneo, in modo particolare i paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo. Che cosa ci si aspetta? E' proprio perché c'è già una realtà importante a Spezia e allora noi cerchiamo attraverso il nostro lavoro di scovare tutte le potenzialità in chiave di export, in chiave di internazionalizzazione. Abbiamo individuato tre paesi che stanno sull'altra parte del Mediterraneo che sono Marocco, Tunisia e Egitto. Con le Camere di Commercio Italo-Estere, quindi Italo-Tunesina, Italo-Egiziana e Italo-Marocco andremo a organizzare degli incontri, anche proprio dei B2B, degli incontri da fare tra tutti coloro che sono interessati, che hanno dato disponibilità e abbiamo rilevato qual è la domanda che viene da quei paesi e attraverso la rivoluzione della domanda noi possiamo dare delle risposte. Stiamo parlando di sviluppo dell'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione per noi è vendere prodotti, servizi e competenze e importare valore. Ecco, un momento di riflessione importante sulla Blue Economy. Che cosa si aspetta alla Spezia da questo momento di riflessione? Beh, intanto la Blue Economy è il settore più importante del nostro territorio e a livello nazionale è la seconda città come importanza della Blue Economy. Quindi bisogna conoscere, prendere coscienza di quello che siamo e di dove vogliamo andare. La nostra città vuole essere leader nel mondo del settore della Blue Economy. Per fare questo bisogna fare squadra, sistema. Abbiamo fatto uno studio sui fabbisogni formativi di tutto il settore. L'abbiamo, grazie alla Regione, finanziato. Nei prossimi mesi sarà messo in pratica. Quindi è una grande opportunità per i nostri lavoratori, i nostri ragazzi. E' anche un motivo per il quale rafforziamo le imprese e le rendiamo competitive sul mercato del lavoro. Portiamo alla Spezia, grazie alla Regione, 3 milioni di euro per formare circa 300 persone che, io sono sicuro, andranno tutte a lavorare. Quindi con un grande risultato occupazionale. L'Università farà la sua. Il polo universitario è fondamentale perché dà una specializzazione importante a chi li si laurea, ma anche la formazione post-universitaria diventa determinante. Quindi abbiamo messo in rete, oltre alla formazione professionale, l'Università e il Distrito di Ligure e Tecnologie, proprio per essere al top.